Ciao a tutti e bentornati a una nuova Aperistoria. Se vi dicessi che una bambina di sei mesi nel 1935 riuscì ad ingannare e ad irridere l'intero partito nazionalsocialista tedesco, quindi il partito nazista tedesco, voi ci credereste? Sembra una storia completamente folle. E invece è realmente avvenuta, ed è la storia di Essie Levinson. Essie Levinson non era tedesca di origine, i suoi genitori provenivano dalla Lettonia e nel 1928 si erano trasferiti in Germania, a Berlino. Perché lo avevano fatto? Beh, per il loro lavoro. Erano due cantanti d'opera, all'epoca in Lettonia tutto questo lavoro per dei cantanti non c'era, e trasferitisi a Berlino. All'epoca la Germania si stava in qualche modo riprendendo dalla Prima Guerra Mondiale e speravano di poter trovare lavoro lì, presso l'opera di Berlino. In effetti, inizialmente le cose andarono abbastanza bene, perché, dopo tutto, i due sapevano fare il loro mestiere e in qualche modo erano riusciti ad integrarsi. La crisi del 29, una certa opposizione contro gli stranieri che nacque negli anni successivi, però fu fatale per il loro lavoro. Persero entrambi il ruolo come cantanti e il padre fu costretto a riciclarsi, commesso viaggiatore. La prima buona notizia gli arrivò però nel 1934, quando i due, che probabilmente stavano già cercandolo da tempo, riuscirono ad avere una figlia, che chiamarono essi. Questa bambina era oggettivamente molto bella, era proprio la classica bambina, la vedete qua sull'immagine che vi metto qua a fianco, la classica bambina paffuta, sorridente, con i ricciolini, insomma, l'immagine della bellezza. E forse, per questo, ma dopo tutto, tutti i figli sono belli per i loro genitori, e quindi per ricordarsi questo momento, decisero, i suoi genitori, di fare una foto. Ora, dimenticatevi come si fanno le foto adesso, prendiamo il cellulare e scattiamo una foto, benché fatto, dimenticatevi come si facevano le foto vent'anni fa, quando più o meno tutti avevano in casa una macchina fotografica, al limite ne compravano una usa e getta. All'epoca fare una foto era qualcosa di un po' complesso, pochissimi avevano macchine fotografiche in casa, soli più ricchi, e chi non ce l'aveva, chi non aveva soldi, se voleva una foto, doveva fisicamente andare in uno studio fotografico per farsela fare. Magari anche solo per un documento, tanto per capirsi. Ad ogni modo, in effetti, i coniugi Levinson portarono le loro essi da questo fotografo, che riuscì a scattare delle foto bellissime, tra cui quella che vi ho fatto vedere prima. Una volta che se ne furono andati, e che gli è ovviamente consegnato le foto che aveva fatto, il fotografo però pensò che, dopo tutto, quelle foto erano talmente belle che le avrebbe potute usare per un concorso. Nel 1935, quando le foto vennero scattate, quando essi aveva sei mesi, in effetti si stava tenendo un concorso fotografico in Germania. Un concorso il cui obiettivo era trovare una foto che rappresentasse il perfetto bambino ariano, la perfetta immagine di un bambino che rappresentasse quella che per il regime italiano era la razza eletta. Il fotografo tedesco, senza pensarci due volte, prese la foto che aveva scattato, dopo aver ovviamente selezionato quella più bella, la imbustò e la mandò al concorso. Quella foto era così bella che riuscì a superare tutte le selezioni, e selezionata in un piccolo e ristretto numero, giunse addirittura fino al tavolo del ministro della propaganda, Goebbels, uno dei più importanti gerarchi del partito nazista, il quale, dopo aver visto tutte le foto, selezionò proprio quella di Essie Levinson. Di tutto questo, i genitori di Essie non sapevano assolutamente nulla, e non seppero assolutamente nulla fino a quando, una mattina, un loro conoscente non venne a portargli una rivista che si chiamava Il Sole in Casa, ed era la rivista per le famiglie nazionalsocialiste, una rivista che era nata proprio per propagandare l'idea nazionalsocialista di famiglia, ma soprattutto di razza, dove, proprio sulla copertina, c'era la foto della loro Essie. Quando i genitori videro quella foto, sbiancarono, sbiancarono e andarono completamente nel panico, e andarono ancora di più nel panico quando nei giorni successivi scoprirono che quella foto era piaciuta così tanto, che non era stata messa solo sulla copertina del giornale, ma era finita anche su altre pubblicazioni, addirittura su delle cartoline che venivano diffuse per diffondere l'immagine della perfetta bambina nazista. Quei due poveri uomini, i coniugi Levinson, si catapultarono dal fotografo, e una volta che furono lì, gli chiesero il perché avesse fatto una cosa del genere, perché per loro tutto quello era pericolosissimo. Perché era pericoloso? Non perché provenivano dalla Lettonia, quello era secondario, no, il problema è che i coniugi Levinson erano ebrei. L'immagine che era stata messa per rappresentare la perfetta bambina ariana era l'immagine di una bambina ebrea. E ovviamente i due coniugi temevano che se qualcuno avesse scoperto la cosa, anche solo riconoscendola, e fosse andato alle autorità per riferirlo, probabilmente per evitare un qualunque rischio, temevano di essere fatti sparire nel nulla. Il fotografo, in realtà, quando accorsi i due coniugi, gli disse che lui lo sapeva benissimo che loro erano ebrei, ce la dire che il cognome li tradiva abbastanza, Levinson, quel Levi in effetti faceva pensare, e che aveva mandato la foto al concorso nazionalsocialista perché lui era completamente contrario alle idee di razza dei nazisti, e aveva voluto proprio prenderla in giro mandando quella foto. Ormai, dopo tutto, era tardi, la foto era arrivata, era pubblicata, e non si poteva fare in nessun modo. E così i coniugi Levinson decisero di provare a fare buon viso a cattivo gioco, rinchiusero la bambina in casa, sperando che crescendo un po' il volto cambiasse e in qualche modo non fosse riconoscibile, e cercarono di evitare qualunque paragone con quella foto. In realtà, in Germania, i coniugi Levinson non ci rimasero tantissimo, perché la situazione per gli ebrei diventano sempre più complessa, perse nuovamente il lavoro, il padre, e alla fine furono costretti, come molti altri, ad emigrare, spostandosi prima in Lettonia e poi a Parigi. A Parigi non rimasero tantissimo tempo. Nel 1940 le forze naziste invasero la Francia, furono nuovamente costretti a fuggire, cercarono di utilizzare un visto che intanto avevano ottenuto per andare negli Stati Uniti, ma non riuscendo ad imbarcarsi in tempo furono costretti a dirottarsi su Cuba, e solo nel 1949 riusciranno proprio a spostarsi negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, Essie Levinson si sposò, divenne Essie Levinson Taft, ma soprattutto studiò, studiò chimica, e divenne una chimica affermata. Quando crebbe, scoprì quella storia, quella storia che in effetti fino a quel momento la sua famiglia aveva raccontato, tra le mura domestiche, ma che proprio essi decise di diffondere al mondo. Sarà proprio lei a mostrare quell'immagine, a raccontare la sua storia, a fare anche tutta una serie di conferenze per raccontare quello che era avvenuto e alla fine a pubblicare il tutto in un libro. Disse che lo aveva fatto, perché era l'unico modo che aveva per vendicarsi. L'unico modo che aveva per vendicarsi di quei nazisti che avevano perseguitato la sua famiglia, avevano perseguitato migliaia, milioni di famiglie ebree, costringendone purtroppo molte alla morte, altre, quelle più fortunate come la sua, a fuggire, comunque ad abbandonare la loro patria. L'aveva fatto per vendicarsi di quegli uomini che avevano così duramente colpito il suo popolo e che lei, quando aveva solamente sei mesi, era riuscita ad irridere, facendogli mostrare la quintessenza della stupidità delle loro idee quando credevano di mostrare la perfetta razza ariana in una bambina e invece stavano mostrando una bambina ebrea. Perché d'altronde, d'altronde, quell'idea stupida era e stupida si dimostrava anche da sola essere. Io mi fermo qua. Se volete brindare con me alla bambina e poi donna, vi potrei consigliare, dato che provenivano dalla Lettonia, del Krupnikas, che è un liquore abbastanza forte e dolciastro tipico proprio della Lettonia. Brindate con quello che volete, ma comunque alla salute di Elsie Levinson. A presto, ciao ciao!